Ma non sclera come te, tu scleri proprio se parti Andiamo Andiamo a corsa No, 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 my god, my dick, my dick Yeah, c'è però 60 di ping Ma sì, va anche 51, non va bene, c'è meno la fibra, dobbiamo avere 20 Ma a me no Eh vabbè, c'è gente Prima free, 20 team 20, guarda, guarda dietro Guarda la caggia a lei, anche se perdo E c'è già uno lì basso, oh cazzo Devo trovare un'arma, un'arma, un'arma Questo qua c'è la fama sopra, non c'è un cazzo, non c'è un cazzo Dammi, dammi la mia mela a cassa C'è tipo fuori, dobbiamo farcelo Dov'è, 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 dov'è Hai già dato la casa là Qua mi sono Dobbiamo busciarlo in due Cazzo c'è al po' No, fuck Io sono sopra, non c'è nessuno sopra, prendo la cesta Ancora R Attento la droga da sopra Eh sì, l'ho coperto Serve il pump a fra Eh, non ho colpi di pump Adesso arriva un altro team, guardati di questo Questo muro qua non è nostro, tieni Fatti i shield Dammi i colpi di pump, li hai? Dove sono? Dove sono? Non li trovo? Oh mio dio Volda, volda, volda Z71, bianchi, 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 bianchi E che esasth そun bianchi? Quando sto opendo sarà è derechos Wah 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 Wow Kill allo, kill allo, ничего Lo fa un pochissima vita, fra Devo curarmi Se li ho, se li ho i maas Se li ho Intanto devo curarmi Ok Ok C'ho due medichi L'evitato a morte Ok devo curarmi ancora I scellini Che parla non ho preso neanche una di chili Vabbè Dobbiamo continuare così te lo dico Questa partita è buona Non c'è niente Non c'è niente Abbiamo tutto il resto per allutare Boh tu hai preso tutte le kill Però boh si Digi Ma non è quello Che magari se facciamo una chili in più O 50 di... Eh l'ho trovato adesso No no ma tanto l'huter Sono quasi full ferro Cioè legno sono full Ferro anche adesso E manca solo il mattone Altri scillini Meno uno E portarlo via lo sceldo Quasi è tutto tuttato Ma possiamo andare in 6 Vediamo di vkare Sto game Non siamo pieni di roba Quanti colpi air hai? Eh dammene un po' Dammene un po' Non so quanti Dammene un po' Ok Continui? Ok Posso Ne hai 100 più di me però vabbè Easy No si si No si si no ma quanti bug ci sono sta roba quanti bug ha messo se ma con questo dovremmo riuscire arrivare a 50 qualcosa 55 qualcosa così perché se no spasso ancora col barretto mio dio sono là sopra sono venti blu ti hanno giampato mi ha beccato col barretto all'io rio kille lo kille lo kille lo che adesso arriva da me di nierdame tu viene da me viene da me ok boh, intanto che spam mi curo ok finito io dopo di questo devo cambiare cuffie e metto quello del telefono se non c'è l'eco comunque sei tranquillo anzi forse è meglio se le cambia adesso perché dopo rimane in game è da un casino ehi mattino oh c'è gente? no però qua c'è un medic da preso il bar è dal posto del medic ci sono ammazza da qualche parte che non ne ho tanti sì è il posto qua ok è giusto schermitico o AI? un leggendario boh va bene lo stesso non so ma sbaglio me ne va in ritardo il controllo c'è un minigun barrette sicilini frutti mazza ma sto qui devi dire era cazzuto con lo spas mi è entrato dentro con la minigun mitica l'ho fatto 75 possiamo farci anche sti qua spamma di minigun spamma di minigun lì se riesci ma il barrette ma il barrette eh dovevi fare il double barrette andiamo o vuoi fare i tagli più caldo potremmo push c'è uno qua giù potremmo pusharlo in due col barrette gli entriamo e lo facciamo se vieni da me ci sei? seguimi ma non era qua? è qua è qua è qua eh buono è andato su vai jump si è un pub vai vai vieni qua butta ci lascerà giù mi hanno già fatto anche loro ce n'è uno qua lo scoppiamo cazzo gli a terra rimini cammini qua c'è uno spasto qua? no c'è il tattico posso tenere io come siete metti? le vale ecco 50 punti 2 metti 2 metti 3 metti le vale ecco 50 punti eh lo so e abbiamo altri 4 game hai sceglone quanti game vi rimangono voi? dopo di questo un altro stiamo facendo tutti i punti adesso abbiamo 7 kill no 8 8 forse noi abbiamo 4 noi abbiamo altri 4 game rimanenti iniziamo subito madonna c'è l'altro titolo bene sei venisse venisse aspetta però possiamo lacerare quello di secondo me sta ruotando la mia roba da lontana è il barret e il minigam io guarda dobbiamo andare in fortine naige perchè così così a tutti quelli che pagano dopo lì lì? uno che ruotano due che ruotano andiamo a naige? si si andiamo a naige andiamo a naige meglio faccio un po' di legno 150 bravo oh mio dio oh mio dio oh mio dio oh mio dio ma che cazzo ma come facendo questo? ma si sveglia nooo boh dobbiamo prenderci la kille al tipo ma si ma quello lì le prendiamo tutte e due non interessa tu vai io fanno le kille al tipo mmm si prende lei sulla montagna va c'è scillone spara ma che falliti erano? ma l'ha presa in braccio? pfff così così non lo so non lascerei video no no è il torneo dobbiamo fare mille punti allora dov'è? c'è uno lo spasso in mezzo al minuto no lo prendi ah boh prendilo tu se ti manco non so se l'hai già uno c'è lo spasso o no eh io uso il tattico quindi è meglio che me lo prendo forse lo spasso e anche lei? ma il tipo dove è andato alla fine? è scappato non si sa neanche dov'è? vado pure ma dove è lo spasso? ah è lì ok eccolo l'ha uno è un altro qua va bene devi venire safe ne scopriamo dov'è? stai andando giù perché andato giù? e lì dietro e dietro quel burro nè ah è dietro quel burro nè stai andando giù? stai andando giù? allora esce la esce la già uscita non ti cazzo mi piace questa cosa qua con un 900 colpito con la roba più al corso lo vedi? cerca di beccarla ti pochissimo Comunque quello lì l'abbiamo uscito nato un botto 150-150 Potremmo salire sempre una di queste carrupole E boxarci sopra lì Non ci possono Sono indistruttibili Potremmo anche farlo sai Sono indistruttibili Là c'è un team che build Fai double barrett Se lo vedi fermo facendo double barrett se lo vediamo fermi E la dinamo di prima Pronto a fare buone Va dietro Andiamo La c'è gente anche Oh se si ferma bravo il barrett E questi qui devono venire safe Io vengo adesso mi scambiamo Vabbè dai andiamo a prenderci un punterai che ci mozziamoci Andiamo qua avanti Ma se stiamo qua sopra Ma guarda che possiamo fare da vol barrett ricordati Ma guarda che riusciamo a buttarla giù secondo me C'è un botto di kill fra Butta giù i muri per terra Quello lì le aveva fatto a 150 Ah sono scesi Ah lì c'è un team Neanche visto Prendiamo un'altra Fai double barrett Fai vedere No No aspetta aspetta per usciare aspetta Bossa sopra qua così Ovvio Abbiamo lai grande assoluto sulla partita Eh che palle dall'altra parte Boh c'è un padio Ma c'è un padio C'è un padio Ehi lo voglio scappare Sono andati via questi eh Ho scappato giù Beh di beccare gente Cosa sei tu Ma non ci serve a niente Si ha messo i gucci Dov'è? Spaccalo col barrett in casa Eh ma già Eh Ma non si rompe col barrett Posso vedere si Oh non me l'apre Passo Vai vediamo Mi faccio meglio Non mi chiede Ti hai fatto un pesce secco da sopra Bravo Quello lì Mi hanno sparato Oh 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 Mi hanno fatto 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 un altro Mi hanno distrutto Sto da farmi i flop Mi chitto io Dai prima che riveli safe Fallita Fallita safe A posto Ma safe Comunque c'è chi è nata la Dynamo là Era quella che era scattata Che si era presa in braccio Alla seconda Oh lì da col barrett 3 2 1 Eh no 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 Dove è stamba stamba Io ce l'ho più in rossa Prendi lag Prendi lag Vai 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 Andiamo a lag E là c'è il brutto della Dynamo Lì Il tato 36 è bianco È bianco È bianco È bianco Sì Vieni qua Uso il pad Quello lì Quello lì Fatto Vieni qua Vieni qua sopra Vieni qua sopra Pad Dove andiamo Prendi lag E fai due Cracker 90 E basta Ne basta due Vieni qua Cerca di laterare la gente E questo qua Bianco Fatto uno Fatto uno Fatto un altro È blu lì Bravo Lì c'è un altro tipo 36 È blu È blu È blu Quello lì è blu È giù Ok È like È morto Bravo Questa è la clip La metto su YouTube Ho like Dov'è? Mi va in ritardo il controller Oh mio dio Sì Oh mio dio Lei va a clippare Quanti chi l'abbiamo fatto Io avevo 15 72 In 1 Eravamo a 39 Non ci credo La clip Ho subito Ma è incredibile Dopo Ho subito Ha osto Medi Ma Ce Mi a